L'amministrazione comunale di Cosenza ha incontrato a Palazzo dei Bruzzi i parroci della città. Con questo primo incontro, dove oltre al sindaco Franz Caruso ha partecipato il consigliere comunale Francesco Turco, delegato ai rapporti con le comunità religiose, si è voluto avviare un rapporto di collaborazione con le parrocchie di Cosenza per una migliore interazione con il territorio. Le finalità sono quelle di dare una risposta ai tanti bisogni che ci sono in città attraverso l'aiuto e il confronto costante con le parrocchie, non solo con le parrocchie ma anche con le associazioni. Quindi oggi abbiamo voluto iniziare questa serie di incontri che sarà costante, che sarà fatta insieme all'assessorato al welfare e insieme al sindaco, proprio per trovare sinergie e riprendere quello che era un percorso che aveva iniziato il sindaco Giacomo Mancini moltissimi anni fa, proprio di confronto e di partecipazione della vita pubblica e quindi dell'amministrazione con le parrocchie e quindi col territorio. Un confronto dopo quello di oggi che proseguirà attraverso anche l'istituzione di una consulta. Si è parlato di consulta, allora si vorrebbe, su proposta dell'Arcidiocesi e del vicario Don Michele Fortino, di fare una sorta di consiglio allargato alla Chiesa, alle parrocchie, al territorio, e quindi anche all'istituzione cittadina per poter condividere le esigenze del territorio e cercare di mettere in pratica soluzioni per risolvere i problemi dei cittadini.